Non basta una lettera di scuse, incontreranno i genitori di una figlia che non c'è più e li guarderanno dritti negli occhi. I genitori di Martina Rossi hanno infatti chiesto ed ottenuto dal giudice che due ragazzi di Castiglion Fibocchi, amici di Luca Vanneschi ed Alessandro Albertoni, coinvolti nella vicenda in quanto accusati di false dichiarazioni durante le indagini, chiedano scuse a voce. Il giudice ha anche fissato una data il 13 aprile 2023 presso il Tribunale di Genova. Martina Rossi perse la vita all'alba del 3 agosto 2011 precipitando dal sesto piano di un hotel di Palma di Mallorca nel tentativo di sfuggire ad una violenza sessuale come fissato dalla Cassazione. I due ragazzi, oggi trentenni, facevano parte della comitiva di giovani aretini in vacanza alle Baleari. Albertoni e Vanneschi attualmente stanno scontando i tre anni di reclusione in regime di semilibertà, mentre per gli altri due aretini la vicenda giudiziaria al Tribunale di Genova è ancora aperta. Si sarebbe dovuta chiudere ieri con la presa d'atto dell'impegno dei due attraverso la messa alla prova, ossia i lavori di pubblica utilità, ma serve anche dimostrare una chiara presa di coscienza di quanto è avvenuto ed adesso i due giovani, oltre al volontariato e all'offerta da versare all'associazione Martina Rossi impegnata contro la violenza sulle donne, lo potranno fare guardando negli occhi i genitori di Martina.